Una quantità enorme di plastica finisce ogni giorno nel mar Mediterraneo, 731 tonnellate che vanno ad inquinare ambiente e catena alimentare. Con il progetto sperimentale Arcipelago Pulito, la Toscana darà un segnale di come sia possibile avviare un percorso che coinvolga tutti i soggetti in campo per arrivare all'obiettivo di avere un mare almeno in parte liberato dalla plastica. La situazione come sapete è molto grave perché si constata per dati UNEP che al 2025 la quantità di microplastiche a mare raddoppi e c'è una stima sempre dell'ONU che dice al 2050 con ogni probabilità sul pianeta, nei mari del pianeta, ci saranno più microplastiche che pesce. Grazie alla collaborazione siglata con un protocollo d'intesa tra Regione, Ministero per l'Ambiente, Unicop Firenze, Lega Ambiente, Autorità Portuale del Tirreno Settentrionale, Labromare, Direzione Marittima, Azienda Revet e Cooperativa di Pescatori CFT, alcune imbarcazioni di pescatori debitamente formati raccoglieranno e separeranno i rifiuti tirati sud dal mare nello specchio d'acqua tra Livorno e Grosseto assieme al pescato già sull'imbarcazione stessa. Insieme alle imprese che lavorano con noi e che hanno le barche e che pescano nel mare lavoreremo in accordo con questo progetto Regione Toscana, Lega Ambiente, Revet, Unicop Firenze che sosterrà il progetto in primis e Labromare, appunto adopereremo per il recupero della plastica e dello sporco che c'è nel mare. I rifiuti saranno riportati a terra, stoccati in banchina e avviati al riciclo. Si partirà con alcune imbarcazioni nei primi giorni di primavera, invertendo una tendenza che finora vede il rifiuto che viene pescato in quanto speciale di fatto ributtato a mare. Un contributo sarà fornito da Unicop. La tassa sui sacchetti, il centesimo a cui noi abbiamo messo gli shopper di plastica, volevamo che fosse comprensibile, visibile, concreto e in qualche modo era riversato per qualcosa di ambientalmente rilevante. Su questo progetto abbiamo spinto molto perché è inaudito che i pescatori non possano riportare i residui di plastica in porto e smaltirli e quindi con questo progetto cerchiamo di tenere pulito il mare e di dare senso anche alla consapevolezza che i consumatori in qualche modo devono avere nel contributo che pagano a un impegno ambientale. Grazie a tutti.